Trani, la seconda casa circondariale più grande di Puglia dopo quella di Lecce, non brilla sul podio. Sovraffellamento, carenza di personale, struttura inadeguate, ciò che ha fatto emergere nella struttura maschile l'associazione Antigone. L'istituto ospita 379 persone detenute, di cui 357 a regime pieno, 20 semi liberi e 2 impermesso, a fronte di una capienza regolamentare di 312. Dunque, come avviene quasi in tutta Italia, la struttura ospita più detenuti rispetto al normale. A questo si aggiunge la carenza di personale, che va dalla scarsità tra gli uomini della penitenziaria, 182 a fronte dei 211 previsti, fino alle altre figure che interagiscono con i detenuti per un loro futuro recupero psichico e comportamentale. A Trani c'è una sola educatrice a fronte delle quattro previste. La reclusione dunque si sostanzia, spiega l'avvocato De Antigo, in Alessandro Stomeo, come in un inutile e passivo stato di limitazione alla libertà, che aggrava i problemi di socializzazione del reo. Anzi, spesso si assiste a una vera e propria scuola a delinquere, secondo il segretario regionale dell'OSAP, Ruggero D'Amato. Occorrerebbero più controlli di tutto ciò che entra, spiega, come per esempio sistemi di sicurezza attesi a ostacolare le comunicazioni per evitare che i detenuti usino i telefoni e sarebbe opportuno dotare gli agenti di pistole laser. Ma D'Amato denuncia anche il reclutamento da parte di gruppi facenti parte alla criminalità organizzata a Barese, Foggiana e Tarantina di detenuti dai reparti ordinari per assicurarsi bassa manovalanza. La filiazione avviene attraverso l'acquisto di sigarette o di una tuta. Per questo ha rivolto un appello ai politici affinché inseriscano nei programmi elettorali una ristrutturazione del sistema penitenziario e della polizia, ormai conclude siamo solo i parafulmini dei detenuti. Per protesta l'OSAP ha proposto per il 25 agosto una giornata di astensione dalla mensa di servizio. In ultimo, particolarmente delicato, il settore della gestione sanitaria dei detenuti con problemi psichici, affetti da disturbo mentale e socialmente pericolosi a causa delle carenze di posti nelle REMS, strutture gestite dalle ASL. Come eventi critici, solo nel 2021 si sono registrati 21 casi di autolesionismo, 11 tentativi di suicidio, 22 aggressioni ai danni del personale e 2 trattamenti sanitari obbligatori.